Sono sette le persone denunciate dai carabinieri nel passato fine settimana per guida in stato di ebbrezza perché trovate alla guida con valori alcolici nel sangue ben oltre il limite consentito. Un'altra persona, un verbanese, è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Fermato durante un controllo, i carabinieri valutando che l'uomo fosse sotto l'effetto di stupefacenti lo hanno invitato a sottoporsi a controllo. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.